Stiamo entrando dentro al Duomo per salire nella cupola di Brunelè. Quanti gradini? 463. Contiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette. 101, 102, 103, 104. È abbastanza impegnativa la cosa. Direi di sì. Sei viva, Roma? Forza. Ce la possiamo fare. La parola di Brunelè. Siamo nell'intercapedine tra le due cupole che appunto permettono quello che è quanto vediamo dall'esterno quanto quella interna è più piccola e serve da sostegno per quella più grande esterna e questo è proprio lo spazio tra le due questo sono le due questa è la cupola di sotto e questa è quella di su 460 461 462 e 460 460 460 460 460 460 360 e ce l'abbiamo fatta ma wow cavolo che vista è una roba super 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 l'abbiamo fatta siamo sul campanile dopo otto anni e mezzo che vivo a Firenze sono riuscito a salire su vai a a a a a Grazie a tutti. 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 Sicuramente ne vale la pena, si vede con questa bella giornata una Firenze meravigliosa. E quindi ve lo consigliamo e non potete perdervelo se passate a Firenze. Grazie a tutti.